TG Web Sansevero TV, non perdere il filo della notizia. Si aggirava in un supermercato ed infilava sotto la giacca superalcolici convinto di farla franca, ma è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato furto. Rashid Anif, 33enne marocchino residente a Sansevero, è già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, è finito in manette, ad allertare il 112 il direttore del supermercato che si è accorto dell'atteggiamento sospetto del cliente. All'arrivo della pattuglia il marocchino, che nel frattempo aveva già varcato le casse, è stato bloccato e perquisito. I militari sotto la giacca hanno rinvenuto alcune bottiglie di superalcolici del valore di 140 euro. La merce è stata riconsegnata al direttore del supermarket, mentre il marocchino è stato accompagnato al carcere di Foggia. Prosegue senza sosta il botter risposta tra maggioranza e opposizione attorno alla centrale termoelettrica in località Ratino. Polemiche che ruotano attorno alla convenzione che l'amministrazione si appresta a stringere con la M+, giudicata e risoria dal consigliere regionale del PD Dino Marino. A breve la questione tornerà nella massima assise cittadina, dove il sindaco Gianfranco Savino farà chiarezza sugli interrogativi posti dal PD e aggiornerà gli amministratori sui termini dell'accordo con la società. 700.000 euro sono stati stanziati dall'amministrazione comunale per avviare un intervento straordinario di manutenzione delle strade urbane. Come previsto nel piano triennale delle opere pubbliche, la Giunta comunale ha approvato il progetto per una serie di lavori sulla rete viaria del centro urbano, che a causa del continuo traffico e delle avversità atmosferiche, in diverse aree si presenta logora ed in stato di degrado. La precaria situazione delle strade urbane, secondo l'amministrazione, è dovuta soprattutto ad un mancato intervento di manutenzione a carattere radicale, in quanto negli ultimi tempi è stato solo possibile procedere a lavori di modesta entità, mirati soprattutto all'eliminazione dei più evidenti pericoli. Dopo anni di petizioni, appelli e cadute, sono finalmente stati avviati i lavori di ripristino del marciapiede antistante, la scuola Carlo Collodi, nei pressi di Via Lucera. A raccogliere gli appelli delle famiglie e delle centinaia di bambini che frequentano col plesso cittadino, l'assessore ai lavori pubblici Cesare Rizzo. Rizzo, insediatosi da meno di un mese, aveva già assicurato l'intervento dell'amministrazione, vista la situazione sempre più insostenibile per bambini, famiglie e personale docente. Oggi quelle promesse sono diventate realtà. Il sanseverese Attilio Marcheggiani entra a far parte del consiglio provinciale. Marcheggiani subentrerà Rocco Ruo, nominato assessore allo sport, politiche giovanili e pari opportunità. Marcheggiani è infatti il primo del non eletti della lista la capitanata prima di tutto. Dopo il consigliere Emilio Gaetta e l'assessore Leonardo Lallo, la città di San Severo avrà dunque un altro rappresentante a Palazzo Dogana. Sarà riattivato già dal prossimo anno accademico il corso di laurea in infermeristica presso l'ospedale Teresa Masselli Mascia. A deliberare la riapertura del corso il consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Foggia. Istituito nel 1985, il corso di laurea fu chiuso nel 2009 e da allora le istituzioni locali non hanno mai smesso di chiederne la riapertura. Mancano solo pochi giorni e poi il titolo di adilettanti della cestistica San Severo sarà ceduto al Madalone o al Chieti. Dopo lo scontro tra il patron Mazzeo del vice sindaco Primiano Calvo, sembrano essersi raffreddati i rapporti tra i vertici del club sportivo e l'amministrazione comunale, che pure ha cercato di coinvolgere imprenditori locali per salvare il basket che conta a San Severo, anche se la classe imprenditoriale sembra non aver risposto alle sollecitazioni che sono pervenute da Palazzo Celestini.